Grazie a tutti. Inediti, al centro dell'ascolto di questa sezione, un testo composto da Bernardo Zinzio, uno dei nostri grandi artisti di Sardegna, su musica di Pietro Marrone. Il brano ha per titolo Lagrima e a proporciolo a cui percorro Occe San Mentos de Gartietti, diretto da Pietro Marrone. Grazie. 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 Grazie.